Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, perdonate le condizioni ma sono influenzata, una tosse allucinante, fortunatamente ho ancora la voce perché chi mi segue lo sa che io un paio di volte all'anno sto senza voce per mesi ma accadrà fra poco, appunto. Possiamo ammirare il mio compagno di feste natalizie, l'ho chiamato Filippo perché ci stava bene Filippo, però questo video lo volevo fare per forza oggi prima che insomma andiamo nel nuovo anno e parliamo un po' di Pasqua, quindi sì, i miei regali di Natale. Ovviamente in questo video vi farò vedere solo i regali di Natale inerenti al beauty makeup perché poi ho ricevuto anche altre cose tra cui soldi, non è che ve li faccio vedere così e altre cose che non hanno niente a che fare con il trucco, quindi iniziamo subito. Allora il primo regalo è questo, la palette di illuminanti di Jeffree Star appena uscita da poco, la Northern Lights che è appunto composta da sei dei nuovi illuminanti Supreme Frost di Jeffree Star, io ultimamente ne ho presi già due singoli che vi ho mostrato in uno dei video haul di dicembre, insomma se ricordo vi lascio il link qui sotto perché spesso vi perdete i miei video haul e poi mi dite ah cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quell'altro quando poi ne ho già parlato su YouTube. Questa qui me l'ha regalata Marco, il mio ex fidanzato, molti come al solito si scioccolibiscono del fatto che io oggi dopo tre anni dalla fine della nostra relazione possa avere un rapporto di affetto e amicizia con il mio ex dopo che ci sono stata 13 anni insieme, fortuna vuole che siamo delle persone adulte vaccinate e soprattutto che si vogliono bene, che abbiamo condiviso una vita di tempo insieme, quindi ci siamo fatti il regalo al Natale. Un'altra cosa a specificare, molti vedono i miei video o sto su Instagram sui regali che mi fanno gli altri e mi scrivono in direct, sei proprio una pezzente, tu al loro non glieli fai, ma io non è che vi mostro quelli che faccio io al loro, io mostro quelli che ricevo, non è che scrivo su Instagram, ho fatto questo regalo a questa persona, cioè riprendetevi, non è che ciò che non mostro sui social non esiste, ciò che non mostro sui social è perché non sono cazzi vostri, non ve lo mostro. Mi sembra anche ridicolo specificare sta cosa qua, però tant'è che di web tiene più nel mondo, quindi tornando al rapporto tra me e Marco, che appunto il rapporto tra me e Marco non dovrebbe essere cazzi di nessuno, però tant'è che se io e Marco siamo in ottimi rapporti, Omar non è geloso perché anche questo mi dita Omar non è geloso, di cosa c'è da essere gelosi? Io avessi amato Marco, sarei stata ancora con lui, se avessi voluto condividere un tipo di relazione tra fidanzati, invece sto con Omar e Omar lo sa, quindi non ha motivo di essere geloso, di una persona che per me è come un fratello, perché davvero abbiamo condiviso qualsiasi cosa. Ma tornando alla palette che è la cosa principale di questo video, ora ve la mostro, si apre così, ha un pack molto diverso dalle altre palette di illuminanti di Jeffree Star perché è molto più spessa, ha uno specchio bello grande e al di sotto i nuovi Supreme Frost che hanno appunto questa nuova texture che sono diversi dai classici illuminanti di Jeffree Star che siamo soliti vedere, hanno delle colorazioni tutti molto particolari. Questo è bellissimo perché ha, ora ve lo sboccio, un riflesso verde fantastico, questo è un levido, non fateci caso, bellissimo, cangiante, ve ne sboccio un altro paio. Questo che secondo me è bellissimo, Arctic Sky, che è una specie di taupe, sì sul levido, una specie di taupe lilla, bello bello, molto particolare. Sono come al solito Jeffree Star, tira fuori degli illuminanti, dei colori molto molto strani e pazzeschi, non sono per tutti perché hanno una grana e una gamma di colori molto particolari che appunto, ripeto, non sono per tutti. Vi sboccio questo blu che è ovviamente quello che mi piace meno della palette perché è difficile, abbastanza difficile da portare come illuminante, bisogna provarlo e testarlo, vedremo e vi farò sapere. Però come vedete ci sono anche colori abbastanza tranquilli, ora vi sboccio questo doratino, lo metto qua, che come vedete si compensa perché ha sia colori abbastanza, diciamo, naturali, ma non sono naturali, sia colori particolari. Quindi questa è la palette che Marco mi ha regalato, che sapeva che ovviamente volevo, non è che l'ha comprata di testa sua perché non avrebbe mai potuto indovinare tutti i trucchi che mi compro e che mi piacciono e ha detto dimmi, preferisco che scegli tu piuttosto che comprarti una cosa a casa. Vedete, qui si vedono meglio i riflessi verdi del primo che vi ho sbocciato. Passiamo ai regali che mi ha fatto la mia amica Ilaria, molti chi segue Instagram qualche storia l'avrà già vista. Oltre a tipo 250 o tre etti di lardo al basilico tipico genovese perché non l'ho mai visto in giro, mi ha preso, che c'era nel pacco, mi ha preso, mi ha chiesto anche lei che cosa volessi ragazza perché io con chi ho confidenza preferisco fare così, ci diciamo che cosa vorremmo, anche due o tre alternative e poi così da andare sul sicuro, da fare un regalo davvero gradito che uno utilizzerà e che vuole e desidera e anche io le ho fatto il regalo. Tranquille, solo che ce l'ha lei, quindi non ve la posso mostrare qui e io le ho detto che cosa volevo. Tra le varie cose che le ho detto, le poi alla fine ho scelto di regalarmi il profumo di Tom Ford Black Orchid, questo qui che costa una cifra blu, io l'ho provato la prima volta a novembre, i primi metà novembre, mi avevano dato un campioncino ad Asia e me ne sono innamorata, subito gliel'avevo detto e lei mi ha preso appunto il profumo, che è Eau de Parfum ed è un 50 ml, la confezione secondo me è chicchissima, però comprendo che possa non piacere a tutti perché è molto molto particolare. Qui c'è la scritta Tom Ford Black Orchid, 50 ml, c'è il tappo, e qui c'è la sensualità fatta profumo, è diventato il profumo che più utilizzo ultimamente. Poi, sempre oltre all'ardo eccetera eccetera, ma questo già ve l'avevo fatto vedere anche qui, vi lascio il link qui sotto dell'ultimo video haul di MAC che vi ho fatto, perché in questo video c'è anche la nuova collezione che è appena uscita, la Blinting, che però io ho in anteprima da un mese fa che ce l'ho e ve l'ho mostrata, quindi se volete comprare qualcosa di quella collezione vi rimando al link del video haul di MAC così che vi darà un'idea. Però questo già ve lo feci vedere, quel video lì mi ha regalato anche un illuminante di MAC appunto della collezione natalizia che si chiama Snow Fishes, infezione esterna, vabbè, specchiata, argentata, e questo è l'illuminante a forma di fiaco, già il pack voglio dire, è qualcosa di sublime. Questo è lo swatch, ha i riflessi prevalentemente rosati ma comunque anche dorati, a seconda da come viene colpito dalla luce perché è un duo trio cromo veramente, pazzesco anche questo, quindi grazie Ilaria. Passiamo a Gloria, idem con Gloria, ci siamo dette cosa vorresti, cosa non vorresti, lei mi ha indicato cosa avrebbe voluto, idem io, e tra le varie cose che ho indicato lei, lei alla fine ha scelto. L'illuminante Farsali Jelly Berm nella curazione Glazed è di questi qui fatti appunto in gel. Quando vi avevo messo nelle storie questo illuminante, molti mi avete contattato dicendomi che non vi siete trovate bene. A parte che tende spesso a separarsi continuamente direi, la parte liquida da quella solida, però secondo me ragazzi non ne fate voi un utilizzo consono a questo illuminante, perché questo non è un illuminante da mettere sopra, cioè oggi si può anche fare mettere sopra la base, questo è un illuminante tipo come quelli di Cover FX da mettere sotto alla base, quindi sotto al fondotinta, che dà luce, ma sotto ora faccio una voce perché il colore secondo me è bellissimo, tra l'altro non ho nulla di questo colore qua, che rimane freddino, ma rosatino, insomma molto molto bello, ed è come siamo abituati anche a vedere su Instagram di quelli che si mettono sotto, tende ad asciugare, è proprio il colore della mia pelle, perciò adoro, perché il colore di base è identico alla mia pelle, lascia solo questo riflesso platino rosato che mi fa crepare, bellissimo, 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 ed è un illuminante da utilizzare prettamente sotto ai fondotinta ragazzi, oppure veramente prelevandone poco, 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 e picchiettandolo sulla base, perché molti hanno detto, ah no, perché poi la base dopo si muove, sposto a tutta la base, provate, come vi ho detto, a metterlo sotto al fondotinta, se ovviamente utilizzate dei fondotinta ultra coprenti è normale che sparirà, ma per chi anche come me utilizza dei fondotinta molto leggeri, dalla coprenza medio-bassa, fidatevi che l'effetto dell'illuminante sotto si vede, ma non è come applicarlo sopra, è un effetto più naturale. Sempre Gloria, sempre Gloria mi ha regalato il mio primo rossetto di Charlotte Tilbury, nella colorazione Bond Girl, il pack bellissimo secondo me, quello esterno, ma anche quello interno, molto molto elegante, e soprattutto il colore, è un colore veramente stupendo, che io non ho, non ho, non posseggo colori di questo genere qua, così se lo avvicino non rende, sembra più chiaro, è così ragazzi, è così scuro, ma è, diciamo, un nude, un nude scuretto, non è un classico berrio rosso, secondo me sulle mie labbra è un My Lip Bad Better, cioè un enfatizzatore, diciamo così, del colore delle mie labbra, che sono molto pigmentate. Ora posso anche provarlo, ma sono struccata totalmente, per cui... Ragazzi, l'ho messo senza specchio e senza vedermi, cioè vedendomi da lì e non è facile. Comunque, come vi dicevo, non è un nude, perché i nude tendono a essere molto chiari, ma questo è proprio il mio My Lip Bad Better, cioè uno di quei colori che c'è, ma è come se non si vedesse, è quasi come il colore delle mie labbra, dà giusto quel colore, quel tocco in più, e io desideravo da tanto un My Lip Bad Better davvero del mio di essere chiamato tale, perché ne ho qualcuno tipo Amorous di MAC, ma non mi fa questo effetto che mi fa impazzire, questo poi è un matte, ma è un matte molto morbido, quindi spero che non mi piaccia la durata, perché se no poi vuol dire che inizio a comprare 3.000 colori di questi rossetti, non costano poco, ovviamente, e mi piace tantissimo, quindi grazie anche a te, Gloria. Vabbè, ora non riesco a vedermi così struccata, con questo brufolo, con la febbre, vabbè. Elena, la mia amica Elena, io vi avevo fatto vedere l'unboxing parziale nelle storie di Instagram, ormai 2-3 settimane fa, quando mi ha inviato il pacco, e che ha visto adesso, ha visto che mi ha mandato tanta di quella roba, un sacco di mini sites, o deluxe sites, comunque di struccanti, roba per skin care, un sacco di dolcetti meravigliosi, che fa sua cognata, che ha una pasticceria, o lavora per questa pasticceria, non l'ho capito, a tema natalizio, quindi è stato, non è solo questo il suo regalo, insomma, ce ne sono stati tanti altri, ma come anche Gloria, dimenticavo di dire, anche Gloria mi ha inviato, tipo Ferrero Rochelind, questa confezione regale, con altre cose, che però appunto non riguardano il make-up. Nel caso di Elena, anche lì abbiamo tante cose non make-up, e tante altre cose skin care, tutte che sto utilizzando già, ma il, diciamo, almeno come lo dice lei, il vero regalo, quello che proprio desideravo tantissimo, è questo qua, è un altro Absolue Rouge, di Lancome, linea drama matte, vi ho postato da poco una foto su Instagram, dove indosso il colore, non mi ricordo come si chiama, vabbè è un rosso comunque, trovate la foto sul mio proprio Instagram, e sto amando questa linea di rossetti, Lancome, è uno di tutti quei brand un po' vecchi, Che sembra che non si evolvono mai, con questi rossetti, ha veramente, come dicono a Genova, dato il bianco, lei mi ha regalato il 507, che mi pare si chiama Dramatic, una cosa del genere, sì, Dramatic, che ha, è una limited edition credo, perché a differenza dell'altro che è nero, quello che ho già, ha il pack esterno, identico al colore del rossetto interno, ed è, ragazze, una texture velvet matte, partiamo da questo presupposto, però molto molto scorrevole, ha una texture veramente pazzesca, questi rossetti, perché sono appunto velvet matte, ma non seccano, anzi scivolano benissimo, vanno via in maniera omogenea, vi parlo del rosso, e questo ancora non l'ho provato, e quindi mi sono piaciuti tantissimo, mi piace anche la confezione, vedete che si, si clicca qui, esce fuori, si tira, così, molto elegante, molto bello, il prezzo è altino, costate tutto, dipende dalla profumeria, tra i 34 e i 37 euro, li trovate, e questo colore poi mi fa impazzire, proprio passion, passion. Infine ragazzi, Omar, che mi ha regalato altre cose, ma di make up, solo una cosa, che è questo, l'illuminante, I'm Razy, di Anastasia Beverly Hills, che riflette tutto, ma va bene, questo illuminante, è ricercatissimo, tutti lo vogliono, è soldato sul sito di Sephora, e io, questo genere di illuminanti, sapete che non lo preferisco, nel senso che non lo preferivo, anzi, mi correggo, preferisco quelle più particolari, da quando utilizzo quello di Hourglass, che più volte vi ho fatto vedere, sia nei video, mi preparo con voi, nell'ultimo, sia sulle storie di Instagram, mi sono innamorata, di questi colori, più sul doratino, platino, e lui l'ha saputo, da visto, che io avevo messo, mi piace su Instagram, a questo illuminante, e l'unica Sephora, in tutta Napoli, che ce l'aveva, tra l'altro, mi ha detto, che ce l'aveva, tipo un paio ancora, e me l'ha comprato, poi mi ha regalato, ovviamente anche altre cose, però insomma, come vi dicevo, vi faccio vedere solo, cose beauty, sia fra questo attualmente, sold out, non si è capito, se ritornerà, se sarà permanente, comunque è ambitissimo, questo illuminante, è un color, platino dorato, mi vorrebbe da dire, perché non è né dorato, né platino platino, il pack mi fa crepare, con queste onde, tutte così, chiunque ce l'ha, dice che sia il più illuminante, di sempre, io lo snobbavo molto all'inizio, devo dire, la verità, ce lo dà, ma è banale, sto colore, poi ho visto la luce che dà, nei vari video, e ho detto, aspetta un attimo, è quel classico colore, che non ha colore, però ce l'ha, non so come dire, è luminosissimo, è pazzesco, ed è molto molto elegante, soprattutto secondo me, da utilizzare con trucchi, molto molto eleganti, questo è quel tocco in più, è quel colore in più, che ti fa estremamente chic, chic, shabby chic, e bio eco bio, il pack tra l'altro, è storto, l'hanno azzeccato, il mio riquadrino sotto, va bene, fantastico, e niente ragazzi, vabbè, c'è veramente luminosissimo, e quindi ragazzi, sì, ma la ticcia sbocciata, io vi saluto, questi erano i miei regali di Natale, riguardanti il make up, grazie a tutti, per avermi seguito, ancora di più, grazie a chi mi ha fatto questi regali, perché tutti sapevano, che erano cose che volevo, e desideravo, lo so, l'effetto sorpresa, sparisce, bla bla bla, dove la sorpresa, però io penso che un regalo, veramente carino, e ben riuscito, è un regalo che sai che alla persona piace, quindi magari l'effetto sorpresa a 30 anni, ne facciamo meno, a meno, preferiamo un attimino, avere cose che ci piacciono, e che sfruttiamo, ci vediamo, al prossimo video, che dovrebbe essere, top del 2018, e flop del 2018, bye,